Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Giancarlo Magalli ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti durante l'ultima intervista che lo ha visto protagonista. Dopo anni di silenzio. Il conduttore Giancarlo Magalli qualche mese fa è stato intervistato da Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo. In quell'occasione, tra il commovente racconto della sua malattia e l'amore della sua famiglia, Magalli ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il cambio di guardia nella trasmissione I fatti vostri non è per nulla andata bene a Giancarlo Magalli. Rimpiazzato senza colpo ferire e senza preoccuparsi su quando avrebbe potuto riprendere in mano le redini della storica trasmissione Rai. Giancarlo Magalli contro Michele Guardi. Ospite del programma Da Noi. A ruota libera. Bisogna ammettere che Giancarlo Magalli ha preso alla lettera questo titolo. Le sue parole. Affilate come lame. Sono state dirette a Michele Guardi. Affermando. Michele Guardi è stato ospite in parecchi ultimamente. Soprattutto a promuovere il suo libro. E non mi ha mai nominato. Tirando una stoccata anche alla trasmissione che ha contribuito a rendere famosi moltissimi artisti. Trent'anni di fatti vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più. Come Castanga e Frizzi. Ma se essere citati da lui bisogna morire mi va bene così. Salvo sottile i commenti di Giancarlo Magalli. Come anticipato poco prima. Nel momento in cui Giancarlo Magalli si è ritirato a vita privata. Cercando di risolvere i suoi problemi di salute. La Rai ha chiamato subito il suo sostituto. La scelta è ricaduta sul giornalista Salvo sottile. Questa volta impiegato in un ruolo inedito. Ma di indubbio successo. Risultati che sono stati utilizzati anche da Michele Guardi. Come se volesse porre l'attenzione sulla vecchia generazione rispetto a quella odierna. Forse non vuole scontentare Salvo. Che da qualche tempo ha iniziato una strana compagna nei miei confronti. Dicendo che lui ora raddoppia i miei ascolti di un tempo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao. 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 Ciao.